che sorpresa e due finalmente così riassumo questo video un saluto a tutti cari amici rossoneri di milanello buona giornata gioca al milan buon sabato buona vigilia di pasqua forza milan oggi più che mai domani ancora di più sorpresa sorpresa e tanta carica devo dire c'è adrenalina c'è adrenalina questa mattina vi ricordo di lasciare il like qui sotto anche tu si sempre mettete tutti i like voglio ogni visualizzazione un like altrimenti vi vengo a prendere a casa mi raccomando scherzo ovviamente lasciate anche l'iscrizione o meglio non lasciatela prendetela pigiate qui attivate la campanella per non perdere nulla sul mondo del milan prima vado dal finalmente ce ne sono diversi il primo finalmente ragazzi è che ci siamo lasciati alle spalle questa sosta che a me personalmente è sembrata infinita mi è sembrata più lunga delle due settimane non lo so non so come mai però è così non so se anche per voi è stato lo stesso finalmente riattacchiamo con il calcio giocato a tinte rossonere che è quello che ci interessa sicuramente più di tutti soprattutto c'è il milan e oggi alle 12 e 30 si gioca contro la sampe in casa là dove noi dobbiamo tornare a vincere con continuità visto che facciamo meglio fuori casa abbiamo un percorso straordinario fuori e in casa facciamo fatica quindi da oggi invertire la rotta ne mancano 10 30 punti a disposizione mister pioli ha identificato a 75 la possibile quota champions personalmente ritengo che non si debbano fare i calcoli di questo tipo e sia necessario davvero pensare oggi ai tre punti la prossima ai tre punti eccetera eccetera non è facile la samp è una squadra che ha valori ha un buonissimo tecnico e tra l'altro ha come terzino sinistra ugello grande tifoso del milan che personalmente mi piacerebbe vedere con la maglia del milan come vice teo rinandez l'anno prossimo e che grazie a un nostro iscritto suo amico di infanzia ogni tanto vede i nostri video di milanello e quindi in questo caso lo salutiamo se ci sta seguendo e magari ti aspettiamo per l'anno prossimo chissà torniamo però a noi finalmente il campo finalmente il milan ma non solo c'è un altro finalmente importante intanto bisogna provare a vincere se vinciamo andiamo meno tre dalla prima squadra e diamo un pizzichino di fastidio diamo un pizzichino di pressione anche se ritengo che insomma l'obiettivo in questo momento vero è il la champions league un piazzamento in champions league però proviamo proviamo diamo fastidio comunque vinciamo vinciamo pensando a noi e poi vediamo le altre che cosa faranno chiaramente io tra poco mi preparerò farò la cronaca qsvs e poi ci vedremo per il video post partita ma ci sono tanti finalmente partiamo dalla sorpresona o dal finalmente partiamo dalla sorpresena sorpresona poi andiamo al secondo finalmente intanto oggi giochiamo con tanti 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 titolari abbiamo fuori ancora diversi giocatori però insomma toccando ferro e non solo sembra che il periodo bruttino da quel punto di vista ce lo siamo lasciate le spalle donna rumo importa che sapete c'è un po di preoccupazione ieri anche verrati positivo incrociamo sempre le dita di fronte a questo maledetto virus a destra anzi parto da sinistra a sinistra c'è teo hernandez che ha lavorato dieci giorni con la squadra a milanello viene ignorato da de champ e noi ce lo teniamo stretto a milanello quindi speriamo sarà in grande forma al centro c'è tomori che viene ignorato dalla nazionale inglese quindi ha lavorato dieci giorni a milanello e speriamo sia in grande forma come di fatto lo abbiamo sempre visto qui a milano con la maglia del milan poi kier che è tornato in grande forma anche lui speriamo comunque molto carico da una parentesi della nazionale danese per lui davvero felice a destra la sorpresa la sorpresona perché c'è fuori calabria che speriamo possa entrare al più presto c'erano due idee dalò o calulo calulo dalò dalò calulo calulo dalò no tra i due litiganti il terzo gode non la spunta da loro la spunta calulo che sono stati convocati dalle under 21 la spunta a sorpresa sale maker a destra salvo poi ripensamenti e dell'ultimo minuto sale makers nell'inedito ruolo di terzino ora lui è stato convocato la nazionale belga non ha mai giocato zero minuti quindi è fresco e riposato c'è una svolta tattica nel futuro di sale makers sicuramente è una scelta coraggiosa da parte di mister pioli poi veniamo all'altro finalmente molto coraggiosa perché rinuncia un terzino di ruolo adattando un giocatore che è solito giocare decisamente più avanti è una scelta coraggiosa ci fidiamo di pioli evidentemente non è autolesionista avrà fatto le sue valutazioni può essere una svolta nella carriera di sale makers può essere un esperimento in vista della prossima stagione quando andremo a prendere sull'esterno di destra un giocatore più importante più qualitativo probabilmente c'è anche questo è chiaro che non è ancora il momento di fare gli esperimenti oggi perché prima di bisogna avere raggiunto il risultato però evidentemente ritiene che abbia le caratteristiche per poter fare quel ruolo sale makers a destra ruolo inedito e in avanti castiglieco che ha lavorato dieci giorni con col mister con gli altri milanelli non è stato convocato dalla sua nazionale quindi c'è questo tandem inedito e una possibile seconda vita per sale maker che potrebbe appunto avere un futuro anche lì all'occorrenza c'è però un altro finalmente che straordinario per quanto mi riguarda ancora non me rendo conto è bellissimo quanto ci sono mancati i loro due insieme i due centrocampisti più forti coloro che costruiscono il centrocampio più forte in serie a cioè che sì che fortunatamente non è mai mancato e lui lupen benasser che ha mancato tanto torna titolare dal primo minuto con che sì e ieri pioli ha detto è unico verticalizza bravo nella lettura degli spazi aggiungo io che un grande dinamismo e quindi speriamo di rivederlo formato mezz'ora con la fiorentina quando è entrato ha cambiato la partita e formato vecchio benasser che non vediamo di fatto da circa tre mesi quindi finalmente li rivediamo insieme questo mi dà molta euforia ragazzi sperando di averli tutti per questo rush finale queste dieci partite dopo oggi saranno nove in avanti abbiamo detto di castiglieco cialanoglu che speriamo torni sia tornato con questa rinnovata confidenza con la porta suandi gol e assist gol con la fiorentina assist assist e gol con la nazionale turca quindi speriamo di avere questa versione così bella così determinante a sinistra rebic che fortunatamente ha visto ridursi la giornata di squalifiche di squalifica da 2 a 1 ha recuperato da questa infiammazione all'anca che gli da noi da diverso tempo speriamo l'abbia lasciata definitivamente alle spalle c'è fuori ancora le hao c'è fuori manzukic in avanti lui zlatan ibrahimovic tre assist in due partite con la maglia svedese al milan ci ha abituato a segnare sempre quindi speriamo che anche oggi timbri il cartellino nonostante sia un sabato prefestivo e che migliori ulteriormente il suo bottino di gol che è già straordinario è importante vincere ragazzi tifiamo tutti insieme oggi tra poco 12 e 30 anche un orario un po fastidioso è importante riprendere con una bella vittoria e tornare a vincere anche in casa per continuare a volare alto 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 vedremo fino a quanto alto intanto siamo lì siamo secondi e bisogna ripeto fare questi tre punti la formazione a questa curiosità questa scelta coraggiosa che sono curioso di vedere appunto ci fidiamo di pioli faremo poi le pagelle domani faremo il post partita oggi sperando di essere tutti belli soridenti personalmente sono carico adrenalina o vibrazioni belle perché il milan torna a giocare speriamo che torna a giocare vincendo ovviamente voglio tantissimi like qui sotto ragazzi per una bella vittoria del milan iscrivetevi qui se non avete ancora fatto attivate anche la campanella per non perdere nulla ma proprio nulla sul mondo del milan forza milan buon sabato buona vigilia di pasqua e ci vediamo tra poco o meglio tra poco a qsvs più tardi qui su milanello youtube ciao